Mercoledì sera erano in programma due gare del campionato di Serie 1 di hockey su pista. In campo la capolista Forte De Marmi e il Trissino che insegue. I rosso-blu di Alessandro Bertolucci hanno avuto ragione del Vercelli, gara giocata in Piemonte a porte chiuse, solo a 12 minuti dalla fine, con la rete decisiva di Henrik Turner. I gialloverdi avevano pareggiato poco prima con Mattugini, uno dei tanti ex in pista per l'1-1 dopo il gol iniziale rosso-blu siglato da Rossi nel primo tempo. È la decima vittoria consecutiva per 30 punti consecutivi da parte della formazione di Alessandro Bertolucci che domenica alle ore 18 andrà a rendere visita in Veneto proprio al Trissino che ha conquistato tre punti importanti a Grosseto. I vicentini avevano la partita più dura perché in trasferta non era andata sempre così bene. Aprono e chiudono il primo tempo Nalo Garcia e Matteo Cardella, ma a decidere il match è stato Davide Gavioli al quinto del secondo tempo. Grosseto nel finale ha fallito anche un tiro diretto.